Sono con il signor Paolo, un genitore di una bambina studentessa della scuola di Meta. Signor Paolo, come sua figlia ha accolto questa iniziativa di questo gemellaggio con la scuola Nicolardi e cosa lei esprime riguardo a questi progetti? I progetti che sono stati elaborati dalla scuola per questi piani PON sono sicuramente delle iniziative lodevoli. I bambini, soprattutto mia figlia, ma immagino comunque tutti i ragazzi della scuola hanno accolto con entusiasmo e con impegno questa iniziativa. Si sono dedicati, hanno provato e quindi nelle ore esterne a quello dello studio e quindi sono contenti. Noi passiamo una giornata di svago con loro e con i professori e quindi accettiamo e apprezziamo queste iniziative che vengono fatte dalla scuola in gemellaggio con le città tra cui tutto Meta. Quindi secondo lei è bene uscire dai banchi? Assolutamente sì, i bambini devono uscire dai banchi e quindi ritagliarsi qualche ora di svago e di normalità oltre la scuola. Grazie signor Paolo e grazie per questa iniziativa di studenti consapevoli. Grazie.